non ballaia non senti nulla qualcuno ha messo la trappola sotto di noi ce l'avete scelgo c'è un po cazzo c'è uno sotto una terra vai elimina quell'altro lì il cazzo trapposa la qui da me 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 è bianco e white questo quando l'ho 2 e quello che mi ha ammazzato a me che manca ma in tempestato e con l'arco laggiù l'hai visto un po' qualcosa di favoloso con quell'amica non sono allenato a evo che mi spara questa merda vi dammi sto materiale stupido a white grande la minigun leggendaria 4 kg 11 kg in più ragazzi la minigun con 500 colpi di minigun si può andare all'infinito e non perché surriscaldare e vabbè ma si gestisce livello 58 nice 12 20 15 31 21 22 21 21 22